benvenuti a trading focus oggi sul mercato americano buongiorno e ben arrivata monica defend head of mond investment institute grazie buongiorno a tutti abbiamo detto parliamo degli stati uniti non possiamo che partire ovviamente dal taglio dei tassi quali sono anche alla luce di questo intervento e vostre previsioni sull'economia americana allora per quanto riguarda l'economia americana noi ci aspettiamo un rallentamento che parte dal mercato del lavoro ma che comunque è contenuto peraltro sono stati rivisti i dati di contabilità nazionale per il 2024 2023 decisamente migliori di quello che ci si aspettava in particolare su un aspetto che il tasso di risparmio i dati su cui stava ragionando anche la banca centrale americana era di un risparmiatore in difficoltà con un tasso portato al 2,2 è stato rivisto il tasso di risparmio al 5 per cento quindi tutto sommato in linea con quella che è la media storica cosa vuol dire che il consumatore americano goda ancora di buona salute e di conseguenza anche l'economia ecco però che cosa succede a questo punto sui mercati perché abbiamo visto ogni taglio poi comporta una spinta dei mercati ma durerà non durerà allora noi pensiamo innanzitutto che banca centrale americana comunque farà due tagli quest'anno di 50 basis point in totale perché perché la banca centrale ha un mandato doppio di inflazione e di crescita in particolare sul mercato del lavoro quindi il mercato del lavoro dicevamo prima sta rallentando non vogliono che rallenti troppo e tutto questo per il mercato azionario è sicuramente una buona notizia a complicare le cose ci sono le valutazioni il mercato americano ha davvero corso tanto quindi adesso bisogna vedere che queste performance positive si allarghino dai magnifici 7 finalmente a tutto il mercato c'è un importante appuntamento le elezioni americane di novembre per cui noi fino ad allora rimaniamo un po' attendisti e per poi prendere posizioni magari al più marcate a livello settoriale grazie a Monica Defend, Head of Mund Investment Institute